Cari amiche, carissimi amici, carissimi tutti che frequentate il mio canale, benvenuti ancora, benvenuti. Un saluto a tutti quanti. Oggi andiamo ad apprendere un lavoro, un altro lavoro sempre molto molto antico. Lavoreremo con gli antenati. Con gli antenati ci sarebbe da dire tantissimo sui nostri antenati, sul culto dei nostri antenati e sul potere che hanno nella nostra vita. Ma andiamo un pochino più velocemente ad affrontare un problema, un tema purtroppo diffuso, purtroppo doloroso, che passiamo più o meno tutti nella nostra vita. Vale a dire quando abbiamo situazioni, momenti di angoscia, di attacchi di panico, di ansia, di sconforto, che si può anche chiamare depressione. Quando non riusciamo a dormire più serenamente, quando ci arriva questo senso veramente di mancanza, di speranza, di tutto quanto, quando siamo veramente giù. Allora, come si fa questo lavoro, questo rituale? Con gli antenati, in modo molto semplice come sempre. E si fa quando volete, qualsiasi giorno, qualsiasi luna, qualsiasi orario, non c'è problema. Ciò che serve è molto semplice, lo abbiamo in casa, un foglietto di carta, una penna oppure una matita, va benissimo, un bicchiere pulito di casa vostra, del sale o grosso fine, non ha importanza e, come vedete, dell'alcol, dell'alcol. Alcol quello che ci facciamo, le pulizie in genere, alcol forte. Allora, come si fa questo lavoro? Intanto prendiamo il nostro foglio, e io cerco di farvi vedere il meglio possibile, e andiamo a disegnare una stella a cinque punte, eh? La stella di Salomone. Quindi, disegnate questa stella a cinque punte. Ovviamente non importa la perfezione, eh? L'importante è che sia una stella a cinque punte, fondamentalmente. così. Cosa facciamo adesso? Nel centro della stella, voi, senza pensarci troppo, senza rifletterci troppo, andate a scrivere ciò che sentite in questo momento, proprio in questo momento, ciò che state passando. Per esempio, ansia, ansia, sconforto, tristezza, depressione, potete mettere anche panico, eh? Scrivete quello che sentite. Io ora metto vari esempi, ma voi mettete esattamente ciò che provate. Insogna, agitazione. Ecco, questo per darvi degli esempi. Potrebbe essere anche solamente un sintomo, eh? Non è detto che siano tutti quanti. Scrivete esattamente ciò che vi fa star male. A questo punto, anche qui, senza stare a rifletterci tanto, guardate queste cinque punte. Una, due, tre, quattro, cinque. In ogni punta andate subito a scrivere il nome di un vostro caro antenato, defunto, ovviamente. Non ci pensate, scrivete di getto. Per esempio, zio Antonio. Mamma Rosa. Può essere anche un amico, eh? Non è detto che sia solo della famiglia. Amico Gianni Nonno Luigi Zia 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 Gina Ecco, così. Le prime, le prime cinque persone che vi vengono in mente voi scrivete, voi scrivete il loro appellativo, eh, quindi, o zio, nonno, mamma, babbo, eh, bisnonno, cugino, amico, amica, eh, con il loro nome, basta il nome di battesimo, tanto lo sapete voi chi sono, e scrivete il loro nome e l'appellativo nelle restanti sezioni, quindi nelle cinque punte. Eh? Così. Che cosa si fa in questo momento? Noi prendiamo questo foglio e andiamo a, un attimo, a meditare. Se volete, chiudete gli occhi, pensate a queste persone e, secondo la vostra fede, qualunque essa sia, chiedete aiuto, chiedete conforto, protezione, chiedete che questi stati dolorosi di ansia, di depressione, di sconforto, di attacchi di panico, tutto quello che c'è, se ne vadano via, vi lascino tranquilli, vi lascino in pace, chiedete a loro di intercedere per voi, di proteggervi, di guarirvi, di rasserenarvi, eh, secondo proprio la vostra, la vostra fede, potete parlare a parole vostre, potete farlo mentalmente, potete anche dire delle orazioni, un'orazione, chi dice il Padre Nostro, l'Ave Maria, chi dice l'Eterno Riposo, chi può, chi ha altri culti, dica un'altra preghiera, non è un problema, non è quello il punto, fate un'orazione, eh, ovviamente per loro, di positività, di luce, e meditate un attimo, prendete questo foglio e ve lo passate sulla fronte, eh, sulla fronte, sulla vostra fronte, con calma, respirate e passatelo sulla fronte, poi scendete giù e di nuovo con calma, passatelo sul cuore, sulla regione del cuore, ora non vedete, ma io vi faccio l'esempio come sempre, lo prendete e lo passate, lo proprio lo mettete sul cuore, eh, e lo passate sul cuore, meditando un attimo ancora, respirando, che ogni dolore, ogni ansietà, ogni forma di angoscia, di insonnia, di depressione, di attacco di panico, si è rimossa, arrivi la tranquillità, la pace, la serenità, la gioia, la voglia di vivere, tutte le cose positive, riprendete questo foglio, eh, così, e andate a piegarlo, non importa quante volte, lo piegate verso l'interno, più o meno così, eh, più o meno una cosa del genere, che poi ha due facce, su un lato scrivete questa parola, pace, pace, sull'altro lato scrivete luce, molto semplice, prendete il bicchiere, mettete dentro questo foglietto, eh, così, se poi non ci sta, lo premete un pochettino, ovviamente, in questo modo, non ha importanza, mettete dentro un po' di sale, il sale tira via, il sale purifica, eh, lo sapete anche voi, ovviamente, il sale assorbe, mettete dentro quindi un po' di sale, come vi ho detto, o fino, o grosso, non ha importanza, e mettete dentro dell'alcol. Quindi andate a mettere dell'alcol, più o meno, fino quasi a coprire il sale. Ecco, così, basta. Basta così. A questo punto rivolgete ancora una piccola meditazione verso i vostri cari che vi stanno aiutando, che intervengono con la loro energia, con il loro amore e intervengono, ovviamente, anche con la forza di questi elementi che vanno a tirare via dal vostro cuore, dalla vostra anima, dalla vostra mente tutte queste situazioni mentali, emotive, chiamiamole come meglio volete, che vi danno veramente angoscia, vi danno dolore, vi danno, ovviamente, se non fastidio, anche a volte di più. Cosa si fa con questo bicchiere? Si prende il bicchiere, eh, così, e lo andiamo a mettere sotto il nostro letto, dalla parte dove, ovviamente, lo spingete sotto il letto, dalla parte, ovviamente, in corrispondenza della vostra testa, quindi, dalla parte dove c'è più o meno il cuscino, però lo mettete sotto il letto, lo lasciate lì tre giorni e tre notti, tre giorni e tre notti, contate i giorni, un giorno, due giorni, tre giorni, terzo giorno, prendete il contenuto e lo potete buttare assolutamente via, anche nella comune spazzatura, non c'è problema, sciacquate, ovviamente, pulite il bicchiere, eh, questo è chiaro, rifate di nuovo l'operazione, eh, rifate di nuovo questo processo come l'avete visto nella prima volta e andate logicamente avanti finché non avvertite che queste sensazioni di attacco, di panico, di ansia, di sconforto, di depressione, di tutte queste cose qua, eh, non belle, ovviamente, voi le sentite proprio sciogliersi, le sentite allentare, sentite che se ne vanno, sentite, eh, ovviamente il vostro umore che risale, eh, quindi fatelo finché è necessario, in genere, non è che dovete farlo a vita, eh, perché sono lavori che danno un esito in tempi molto rapidi, veramente rapidi, cioè, ci sono persone che già, già prima di metterlo, si può dire, e di andare a letto, eh, cominciano a sentirsi, come si dice, ah, come se viene via dal petto un macigno, un peso, e la testa lo stesso, come se dalla testa venisse via eh, di nuovo questa, questa forma di, di buio, eh, di peso. In ogni caso, il lavoro si fa in questo modo. Quindi, lo tenete tre giorni e poi lo rifate per i successivi tre o altri tre o comunque fino, ovviamente, a quando proprio non avvertite che tutte queste forme, diciamo così, negative, perché logicamente sono forme negative, anche se ci potrà essere una componente medica e qui giustamente non è che diciamo che non serve il medico, è ovvio, è chiaro, se siete in cura, se avete bisogno del medico, il medico è chiaro che ci vuole, però, come sapete bene, il mondo spirituale offre sempre delle soluzioni e delle risorse. Quindi, carissimi amici, carissime amiche, se lo ritenete, se lo ritenete giusto, se lo sentite, provatelo, questo lavoro, fatelo, fatelo con fede e vedrete e vedrete che se lo fate veramente con fede, non è suggestione, non è effetto placebo, è un effetto spirituale, che tutte queste forme che vi tormentano vanno a finire con l'aiuto dei vostri cari antenati, defunti, vanno a finire in questo composto, in questo bicchiere. Carissimi e carissime, con questi bellissimi fiori, tra l'altro, che non sono rose, non so neanche io cosa sono, me li hanno regalati, io per il momento vi saluto, vi auguro tanta tanta serenità, tanta tanta salute, leggerezza, voglia di vivere, di fare e tantissimo, come si dice in Brasile, tantissimo asce, ci vediamo nel prossimo video.